La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avrebbe emesso il provvedimento di fermo nei confronti di tre uomini. Valenti Luciano, classe 84, disoccupato di Delia. Clizia Alfonso, classe 88, autotrasportatore di Serra di Falco. E Clizia Giovanni, classe 78, operaio di Delia. Fermo, eseguito dai carabinieri di Serra di Falco e Delia, supportati dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caltanissetta. Lo scorso 13 maggio, quattro uomini si sarebbero introdotti all'interno dell'abitazione di un 67enne. L'uomo sarebbe stato legato e colpito con pugni e sarebbe stato derubato di circa 1.500 euro, tutti i soldi che aveva in casa. I carabinieri della stazione di Serra di Falco, dunque, avrebbero iniziato una complessa attività di indagine, condotta di concerto con l'autorità giudiziaria, anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, che avrebbero portato i carabinieri di Serra di Falco e di Delia ad individuare indizi a carico di Valenti Luciano e Clizia Alfonso. Le indagini avrebbero svelato un furto consumato e uno tentato ai danni di una ditta di Serra di Falco e avente ad oggetto arnie da apicoltore. In particolare, i tre fermati lo scorso 20 luglio 2016 avrebbero asportato 15 arnie da apicoltore da un terreno incontrato a Stincone, fra i comuni di San Cataldo e Serra di Falco. Tornati sullo stesso luogo il 25 luglio, sarebbero stati intercettati dai carabinieri e il solo Clizia Giovanni bloccato in flagranza. Dalle intercettazioni sarebbe emersa la volontà di uno degli indagati di recarsi all'estero, partendo nella giornata di oggi, motivo in più per il quale l'autorità giudiziaria avrebbe messo i provvedimenti di fermo. Eseguite le perquisizioni domiciliari, durante le quali sarebbero stati rinvenuti svariati monili in oro e alcune migliaia di euro in contanti, il tutto posto sotto sequestro. I servizi di pedinamento svolti nei giorni antecedenti al fermo avrebbero permesso ai carabinieri di individuare il terreno incolto fra Deli e Sommatino, dove erano state nascoste le arnie asportate in data 20 luglio, 13 delle quali, una volta recuperate e riconosciute dal titolare della ditta, sarebbero state riconsegnate al legittimo proprietario. In corso intanto ulteriori accertamenti, anche per accertare l'identità degli altri complici dei fermati.